Alessio Rinaldi Andiamo? Sì, sì. Allora, che tipo di film hai in mente? Oddio, non lo so, è ancora tutto da decidere. Tu hai parlato con Correlli? Sì. Allora saprai che vuole un film senza eccessi, un film di atmosfera basato sul non detto. Vedi Alessio, insieme dobbiamo scrivere la storia che esiste già dentro di noi, quella che ci ossessiona, che non ci fa dormire la notte. E deve essere la storia a guidare. Non noi. Non servono a niente discorsi astratti sul genere o sulle regole che questa storia deve e non deve seguire. Non preoccuparti di Correlli, ci ho parlato io con lui e io sono responsabile di ogni nostra scelta.